Si gioca con lo stesso avversario di domenica scorsa, che partita dobbiamo aspettarci? Simile o sarà diversa visto che iniziano i play-off? La partita dei play-off normalmente è diversa, sarà la partita del campionato. Per noi ovviamente la prima partita di play-off è una partita importante, abbiamo tutta la giocatrice, alcuna con qualcun problema, ma tutta la giocatrice è a disposizione e dobbiamo vincere con il meno numero di minutaggio possibile nella giocatrice importante e dobbiamo vincere per iniziare bene questa corsa. Quanti demeriti di Schio ci sono stati e quanti meriti di Orvieto nei primi due quarti della partita di domenica? Sicuramente un mix delle due cose. Io penso che la nostra squadra ha partito con una buona intensità, con una buona aggressività, ma senza testa, per giocare questo sport abbiamo bisogno di testa. Una partita nel primo quarto non buona per noi, ma ritorniamo alla partita dopo l'intervallo e facciamo una buona partita allo fine. Quanto può aiutare il fatto di adesso non avere più l'impegno di Eurolega rispetto ai rimpianti che ci sono per il campionato italiano? Buono, non è solo un aspetto fisico della squadra, perché per noi non è una buona cosa non arrivare hasta il fine. Si siamo una squadra ambiciosa, questa squadra e questa dana, istoricamente la nostra società è una società vincente, una società anche ambiciosa e per noi non è buona perdere questa partita. Sappiamo che abbiamo una difficoltà in queste play-off, sappiamo che giochiamo contro una buona squadra, che secondo me non so se tutto il mondo valuta sufficientemente bene la squadra di Caiseri, ma penso che perdiamo un cara o croce, nel ultimo minuto, nel due ultimo minuto. Penso che la giocatrice ha posto tutto il suo empegno, ma non sempre se vince, questa situazione non ci piace. Desde il punto di vista fisico, sicuramente è mello di cara al campionato, non è stare una settimana a Caterinburg con sei ore di fuso horario, e dopo 48 ore di aver arrivato, giocare contro Luca, a Luca, sicuramente non è una situazione perfetta. Ma ripeto che noi preferiamo giocare la finalità ovviamente e noi stiamo felici per non giocare la costa. Ultima cosa, su cosa deve stare attento Schio rispetto a Orvieto? Ovviamente c'è una giocatrice che la giocatrice più punti fa in tutto il campionato, per lo tanto è una giocatrice a tenere molta attenzione, le sue due giocatrice americane soprattutto. Ma è una squadra che gioca con ordine, una squadra che gioca senza pressione, ovviamente, come tutta quando gioca contro noi. E dobbiamo fare il nostro meglio, il basket, dobbiamo recuperare, dimenticare assolutamente lo che ha passato, iniziamo una nuova etapa, perseguiamo il quarto obiettivo della stazione, dopo la Supercopa, la Coppa e l'Euroliga, e per noi è molto importante finire bene in questa stazione. Dobbiamo giocare il nostro meglio per la canestra per vincere non solo a Orvieto, sino a tutta la squadra.